Il Sulmona sul sintetico del Cipriani di Raiano si aggiudica la gara casalinga contro il Castiglione Valfino. Partita ricca di emozioni, al secondo la gatta impezzerisce di testa l'estremo difensore Cappuccini. Al sesto rischia grosso il Sulmona da una palla persa. Gli ospiti ne approfittano e Colicchia sottoporta sfiora il gol. Providenziali intervento di Dicenzo che si salva con un piede. Al decimo sono i locali ad andare vicini al vantaggio da un angolo di dibacco. In area colletta rischia l'autogol con la palla che colpisce la traversa. A seguire ci sono le proteste per un fallo, ma lascia correre Francesca del biondo di Pescara. Al trentaduesimo altre proteste dei biancorossi, questa volta per un mani che appare evidente di un giocatore in barriera dopo una punizione di Coletti. Il Sulmona subisce poi alcune iniziative degli ospiti. Al quarantesimo stava per Costarcaro, malinteso tra Trozzo e Dicenzo, con la palla che finisce poi in calcio d'angolo sugli sviluppi marini misterioso di testa in sacca e rete per il vantaggio del Castiglione Valfino. Il Sulmona pareggia allo scadere, Coletti dalla destra mette in mezzo e in area De Leonibus devia dentro la sua porta per un autogol che determina il pari dei locali. Ad inizio ripresa protagonista ancora Valerio Coletti che colpisce la traversa e poi Palombizio spedisce rete a gioco fermo. All'ottavo c'è il nuovo vantaggio degli ospiti che sfruttano un errore dei locali, dopo la ribattuta di Dicenzo sul tiro di Cancelli e vincente il colpo di Colicchia. Il pareggio arriva anche questa volta immediato quando l'arbitro concede il penalty per un intervento su Del Conte. Dal discritto trasforma Maxi Palombizio per il 2-2. Al quarto d'ora esordio del nuovo innesto del Sulmona Simone Gizzi che entra al posto di Lagatta. Al diciottesimo, dopo un diagonale di Palombizio, Aquilio reclama il fallo su di lui di Marini. Subito dopo si verifica l'episodio chiave del match che scatena le ire degli ospiti quando l'arbitro giudica da rigore l'intervento su Gizzi. Palombizio questa volta, vedere spingersi la conclusione da Cappuccini sulla ribattuta Danilo Del Conte è più lesto di tutti ad intervenire e realizzare il gol che vale i tre punti. In questa circostanza forti proteste degli ospiti ma se il rigore concesso è apparso inesistente c'era sicuramente al 35esimo per un alteramento di Palombizio ma Aquila del Biondo ha confermato che per lei è stata questa una partita da dimenticare. Grazie.